Cerimonia di consegna in prefettura a Napoli delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A consegnare le prestigiose pergamene ai nuovi cavalieri ufficiali e commendatori il prefetto Marco Valentini, coadiuvato dal prefetto Morcone e dall'assessore Gaudini. Ad essere premiati persone militari che si sono particolarmente distinti per impegno civico e sociale, consegnate anche le medaglie d'onore alla memoria dei familiari, sette cittadini della provincia di Napoli, deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra i premiati spicca i nomi del professore Edoardo Cosenza, della professoressa Franca Assante di Panzillo e dell'ex rettore della Federico II Guido Trombetti. Un'onorificenza che si riceve dal Presidente della Repubblica è certamente un punto di arrivo. Nel momento in cui uno si guarda dietro e dice, beh, forse qualcuno mi ha apprezzato. È un momento di grande emozione, di grande felicità. Peccato non poterlo condividere con la famiglia, con mia moglie, con i miei figli, ma è un momento di grande emozione. Mi sento proprio orgogliosa, onorata soprattutto, di questo riconoscimento e di essere molto orgogliosa del lavoro che ho fatto. L'ho fatto con grande passione. Quando si subisce un giudizio e l'esito del giudizio è positivo, in fondo ognuno di noi si sente un po' gratificato. Io mi sento molto gratificato.